L'azienda Pistoiese Autodemolizioni Dolfi ha deciso di festeggiare il Natale finanziando la ricerca e lo sport. Ha infatti deciso di investire nel sostegno all'associazione AISM che si occupa di sclerosi multipla ed anche nello sport pistoiese, in particolare nei rally con l'auto del pilota Davide Giordano. Sì, importanti ambedue perché uno è sportivo e riguarda comunque una macchina qui di Pistoia che è di Giordano Davide. Insomma, partecipa spesso anche a rally di Pistoia e di AISM, invece c'è un'associazione vicina molto a chi ha problemi di sclerosi multipla. Abbiamo fatto una donazione acquistando anche panettoni, pandori e quant'altre cose da poter regalare poi a loro volta. AISM è l'associazione italiana sclerosi multipla da oltre 26 anni sul territorio di Pistoia, dal 1968 presente in Italia con oltre 100 sezioni. È importante perché si occupa di sostegno alle persone con sclerosi multipla e familiari a 360 gradi. È fondamentale perché finanzia la ricerca sulla malattia. Dalle prove di solidarietà alle prove speciali nelle corse, che legame c'è? Sì, si vede una connessione anche perché comunque dietro a un'attività sportiva ci sono sempre degli uomini. In questo caso la Top Gear ha circa 24-25 persone che partecipano ai campionati, meccanici, logistica. Queste persone poi possono trasmettere il messaggio e divulgarlo, in questo caso anche ad altre situazioni. Importante ecco da dire, questo perché il cuore lo comanda, questa ditta è stata formata dal babbo del 1956, portata avanti negli anni e adeguata a tutte le normative che piano piano si sono presentate. E con l'occasione vi auguro buon Natale. E con l'occasione vi auguro buon Natale